Scopriamo il vero impatto ambientale delle auto elettriche. Le auto elettriche sono spesso considerate paladine dell'ambiente, pronte a sostituire le loro controparti assetate di benzina. Ma attenzione, c'è un colpo di scena. Ricaricarle potrebbe essere più inquinante del far funzionare un motore diesel. Quando colleghi la tua scintillante auto elettrica, da dove proviene l'elettricità? In molti posti. Già, questo significa che il tuo mezzo ecologico potrebbe nascondere un segreto sporco. E parliamo di quelle batterie. L'estrazione di litio e cobalto. Un vero incubo ambientale. Per non parlare del processo di produzione che richiede molta energia. Ma prima di abbandonare del tutto le auto elettriche, considera questo. Le fonti di energia rinnovabile sono in crescita. Solare, eolica. La chiave è la transizione della nostra rete energetica. Dunque, le auto elettriche inquinano più del diesel. Oggi, forse. Domani? Dipende da noi fare quel cambiamento. Restate curiosi.